Il porto di Salerno si conferma sempre più scallo di riferimento non solo per il comparto turistico ma anche di movimentazione merci. Negli ultimi mesi dell'anno ottimi riscontri per il traffico commerciale, come spiega ad Otto Channel il presidente di Container Terminal Agostino Gallozzi. Il traffico cresce, c'è una ripresa interessante, dopo il periodo estivo stiamo crescendo al tasso del 10% al mese, mese su mese, e valutiamo che anche il 2023 possa segnare un segno positivo di circa il 10%. In queste ore è arrivata al porto di Salerno la quarta maxigru che contribuirà ad aumentare la capacità produttiva dello scalo. Nel 2022 abbiamo completato nel porto commerciale in Salerno Container Terminal un piano di investimenti ambizioso di circa 15 milioni di euro, sicuramente gli investimenti maggiori realizzati tra i porti dell'autorità portuale di Sistema, perché noi siamo partiti dal presupposto che se c'è crisi investi di più, non è che se c'è crisi stai lì a aspettare che passi. E quindi con l'arrivo della gru che è sbarcata oggi, una quarta grande gru per navi da contenitori, che è la settima in esercizio in Salerno Container Terminal, in realtà aumentiamo la nostra capacità di movimentazione di circa il 25%. Le prospettive per i mesi a venire sono particolarmente incoraggianti, anche perché gli investimenti non si fermano. Quindi le prospettive sono positive, siamo riusciti a portare a Salerno dopo l'estate sette nuovi collegamenti marittimi d'oltreoceano e d'oltremediterraneo, quindi mettendo Salerno ancora di più al centro di una rete molto complessa di collegamenti marittimi a servizio delle nostre esportazioni.